Raga, voi comunque non potete capire, io ho praticamente perso la voce, non ne posso più, ho svegliato tutto il condominio, vi voglio bene. Ecco, questa secondo me racchiude un po' tutto il tifo che non può essere presente, ma da casa perde la voce, tiene sveglio tutto il condominio per tifare. Ecco, questa ragazza mi piacerebbe premiarla con un... Ecco, quindi è un appello che fai, speriamo che magari assista alla nostra trasmissione e ti possa contattare. Premiare lei per premiare con il nostro cuore tutti i nostri tifosi. Possiamo disturbare un attimo? Andate bene! Ciao! Ciao, ciao! Lei è Argo, io sono Luciano. Lo sai, svegli. Sei tornato alla voce, vedi? Eh, esatto, c'è un buon giorno. Ci fa molto piacere, sai, quello che hai postato con i tuoi amici. Sei una gran tifosi, nonostante... Sempre. 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 Ma proprio ultimi fare, sempre. Soffrì. Sempre stata così. Sei contenta adesso? Va un po' meglio, no? Buono, grazie, però li va a giungiare. Senti. Senti. Non so qual è il tuo giocatore preferito, non lo so. Noi abbiamo pensato... Noi ti abbiamo fatto la maglietta di Delfino. La maglia di Delfino. Grazie. Lui purtroppo non è potuto venire a firmarla. Se la firmo io va bene uguale? Sì, sì. Sei sicura? Sì, sì. O preferivi Carlo? Eh. No. Prova a chiamarla. Prova a chiamarla. Non è impossibile, non è quasi possibile. Basta poi tenare. Grazie. Grazie La firma La firma La firma La dedica non la vuoi? No No Vieni qua Siamo già qua Vieni qua Ecco Adesso poi facciamo una foto tutti insieme Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua